Ho fatto tre, quattro, cinque volte a Siena si trovano. Che cos'è la strage di Vicenti? Tu non lo sai. È arrivata al vostro video, è? È ancora più antica la strage di Vicenti, al tempo dell'anno zero, quando è nato Gesù. No, perché fai uccidere tutti i gruppogeni? Ecco, no, fai uccidere tutti i gruppogeni. Perché? Perché gli avevano detto, in base alle profezie dei profeti, che sarebbe nato un bambino che avrebbe governato il mondo. Ah, dicevano, ecco, io quindi perdo lo scelto, disse Erode, che poi sembra che Erode sia stato anche bravo, abbia fatto grandi cose, ma eccolo, comanda, uccidere, Io, perdo le mamme, che prendono i bambini, guarda, guarda come stesso bene, e dica, perché se esci, quando ne come ne vedi, perché ci sono lì, non è la strada. Il nostro 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 nostro.